Musica Bere degli alberghi chiusi durante il festival non è una cosa bella, non è un bel biglietto da visita per Sanremo. In questi giorni in città si dice addirittura che avere due festival potrebbe essere un boomerang. Io credo di no, perché bisogna sperimentare anche cose nuove, perché se no ci atrofizziamo. Però continuiamo a sentire ancora l'assessore Sarlo che ha qualcosa da dire. Beh, come in tanti ambienti il cambiamento può essere interpretato in modo negativo, ma francamente i risultati di impatto economico e di visibilità lasciano pensare che possa essere solo una soluzione positiva. C'è un piccolo problema, perché in quel periodo che è un periodo di morta stagione, anche se c'è il Natale, però è solo un Natale che non fa primavera, come si dice. Molti alberghi qui a Sanremo sono abituati a chiudere per quel periodo, finalmente rimarranno aperti, speriamo. No, l'aspetto è un po' diverso. Intanto solo alcuni alberghi chiudono, perché sono alberghi stagionali legati a una licenza, perché per decreto del Presidente della Repubblica, credo, degli anni 60, gli alberghi stagionali hanno l'obbligo di chiusura di 73-75 giorni, se fanno una chiusura sola. Se invece come in montagna ne volessero fare due, l'obbligo di chiusura è di 140 giorni. Quindi l'aspetto, voglio dire, è abbastanza complesso, perché poi è legata ai contratti di lavoro. Un conto è fare contratti di lavoro stagionali, perché la licenza lo permette, un conto è fare annuali. Quindi non è un aspetto... Ecco, c'è da dire che la legge non prevede un determinato periodo di chiusura. Infatti molti alberghi chiudono il 30 di settembre, fanno 75 di chiusura e poi riaprono il 15 di dicembre. e ce ne sono quasi tutti. Ce ne sono un paio che chiudono il 31 ottobre o il 10 di novembre per poi riaprire per i festival. Quindi va da sé che con un cambiamento repentino questo giorno di questo tipo non potrà essere possibile per loro cambiare la loro stagionalità. Ecco, quindi però si tratta di un paio di alberghi. Tutto sommato la maggior parte degli alberghi proprio a metà dicembre sono aperti. Quindi non ci sarà nessuna ricaduta negativa su questo fronte? No, direi che è positiva. Riaprono con l'albergo con le possibilità di aumentare l'occupazione per una manifestazione del genere perché poi non ci sono solo le persone che concorrono e gli addetti ai lavori. Ci sono poi i preparativi per allestire il palco e quant'altro. Insomma, è gestito dalla RAI, modificano anche il palco probabilmente. Quindi c'è una pioggia inaspettata ma una pioggia positiva di clienti, di gente che Sanremo probabilmente se lo sognava se non ci fosse questa occasione. Che capita nel momento giusto, cioè sbagliato, voglio dire in bassissima stagione. Quindi tutto quello che si fa ha un ritorno altro positivo. In più potrebbe essere un rilancio dell'immediata festività e del mese di gennaio che è sempre molto basso in attesa del festival. Quindi voglio dire, tutto sommato sarebbe un anticipare la stagione a Sanremo. Difatti praticamente il festival di Sanremo, la 69esima edizione che si svolge a febbraio del 2019 praticamente non inizia a febbraio ma inizia a metà dicembre. È praticamente sì, non è la stessa cosa perché non si tratta di una replica o di un festival minore. È proprio un forma diverso che agisce in una maniera diversa però che fa sfociare. Insomma il direttore artistico è lo stesso. Abbiamo visto che Baione ha saputo garantire alla manifestazione un grandissimo successo come non se ne registrava da anni. Devo dire che c'è stato anche il predecessore di Baione che ha fatto un ottimo lavoro però in effetti, beh diciamo sì, sì, sì. Non devi stare lì a giocare con le parole. Certo. Senta, allora tutto positivo per lei? Ma secondo me sì, voglio dire. Secondo noi anche, secondo noi anche. Quindi i conti poi le faremo a cose fatte. Naturalmente dovremmo gestire un po' di perplessità però ritengo veramente sono molto pochi gli aspetti negativi. Grazie Assessore, come si dice, un po' al lupo. Grazie, grazie. Olmo Romeo, presidente Federgioco e componente del CDA del Casino di Sanremo. Dopo 41 anni, quest'anno, il Festival di Sanremo che è nato qui 68 anni fa, proprio a fianco, torna a essere protagonista e a ritornare a far grande questo casino che è già grande di per sé stesso, però il Festival è il Festival. Quindi per voi è una grossa fish che mettete sul banco perché può andare bene, può andare male, ma sicuramente andrà bene. Cosa le dici? Beh, abbiamo iniziato l'anno scorso avendo tutte le collaterali del Festival quindi a parte proprio la settimana del Festival, tutte le collaterali, quindi il pre-Festival, la vita in diretta e il dopo-Festival venivano proprio registrate e proiettate nel nostro teatro. E quest'anno avere il ritorno del Festival, seppur declinato nei giovani, è un qualcosa che ci riempie d'orgoglio. Quindi i miei complimenti vanno innanzitutto al Sindaco perché è riuscito a strappare una condizione importante per la partecipata che ritengo strategica dal punto di vista del turismo, non solo per Sanremo ma per il territorio, questo Roberto ce lo diciamo sempre. E poi sì, una vetrina internazionale incredibile, la sfrutteremo nel migliore dei modi. Siete lei stamattina ci siamo sentiti per telefono e mi ha detto sì, va tutto bene, però noi avevamo già impostato un calendario e non so come andrà a finire. E come andrà a finire? Va a finire bene perché il Festival apre tutte le porte. Gli altri vengono dopo, eh? Ubi Maior, Minorcessat, noi abbiamo una stagione teatrale che normalmente inizia l'ultima settimana di novembre. Abbiamo già contattato e ricontrattato tutti i vari spettacoli per farli poi partire a gennaio. È logico che è un'occasione del genere e non potevamo perderla. Quindi avanti tutta sul Festival e poi sono sicuro che i risultati arriveranno. Sì, perché praticamente questa organizzazione, sono cinque serate qui che verranno proiettate poi sul Rai 1 sicuramente. Baglioni l'ha voluto fortemente, il Sindaco l'ha voluto fortemente e penso che sia una cosa che rivoluzionerà anche la struttura del Festival. Sarà una grande cosa. Voi come vi preparate? Perché in un certo momento ci sarà un afflusso di gente che penso non guasterà, no? Assolutamente, anzi cercheremo di convogliarli verso la nostra area produttiva quindi le slot e i giochi lavorati al piano di sopra. Però devo dire che questo secondo me nasce anche da un riconoscimento. L'anno scorso la Rai si è trovata molto bene all'interno del nostro Casinò. Vi abbiamo offerto veramente tutti gli spazi possibili, Roberto, compreso il nostro ufficio, quello del direttore generale, tutti. Perché credimi che quando arrivano hanno bisogno di spazi incredibili e il Casinò non è nato per essere così militarizzato dal punto di vista degli spazi. Però noi abbiamo fatto buon visa, cattivo gioco e quindi probabilmente questo è proprio un riconoscimento sul lavoro che è avvenuto quest'anno a febbraio. Abbiamo grandi aspettative, come dicevo. Comunque, io dico, ce ne fossero di queste e di queste, ce ne fossero appunto. Speriamo in un al mese. Senta, io la ringrazio. E adesso andiamo a sentire cosa dice l'amministratore delegato Prestinoni, che ci sta aspettando. Grazie e auguri. Grazie. Giancarlo Prestinone, presidente e amministratore delegato del Casinò Municipale. Direttore generale del Casinò Municipale. Qui ci troviamo dietro questa statua che è un po' il simbolo portafortuna di tutti i giocatori, forse meno dei proprietari del Casinò, però è abitudine toccare un po' il ginocchio perché si dice che porta fortuna. Quindi tocchiamo il ginocchio. Senta, dopo 41 anni, ritorna il Festival Sanremo. Qui, dentro il Casinò, dove è nato, proprio oltre quella porta, che adesso c'era il giardino d'inverno, il mitico giardino d'inverno, dove 68 anni fa il mitico Nunzio Filogamo, per radio, perché la televisione non c'era ancora, ha detto, signore e signore, buonasera, la prima edizione del Festival di Sanremo. E adesso ritorna alla grande. Sì, siamo molto contenti di questa scelta fatta innanzitutto dalla RAI e ringraziamo moltissimo sia la RAI e molto al nostro sindaco che ci ha permesso e ci permetterà nel mese di dicembre di avere nuovamente il Festival all'interno del nostro Casinò. Per noi è un'opportunità unica perché sicuramente significa un'occasione di poterci presentare nuovamente a livello nazionale e perciò l'immagine del Casinò di poterla far risplendere a livello di tutta la nazione. Sono due giorni che i giornali nazionali e anche Nismatè, quelli francesi, stanno parlando di questo ritorno del Festival di Sanremo, che è il Festival di Sanremo internazionale, ha una promozione, una pubblicità, un appeal che forse pochi hanno al mondo, ritorna al Casinò di Sanremo. Quindi lei, quello che ha detto, è da sottoscrivere. Sì, ritorna il Festival al Casinò e sicuramente questa manifestazione che ci sarà nel mese di dicembre con i giovani porta nuovamente il Casinò nelle case di tutti gli italiani e questo senz'altro è una cosa importantissima per noi e per la visibilità che dà la casa da gioco. Sicuramente, io penso che quello che è stato fatto negli ultimi paio d'anni, specialmente l'anno scorso, nel lavoro così intenso con la RAI che li abbiamo accolti qui per alcune trasmissioni che ci sono stati durante il Festival 2018, forse hanno fatto ben pensare che la casa da gioco è sempre disponibile, lavoriamo con qualità e per poter ricevere tutta la RAI e questo impegno e farlo produrre all'interno della casa da gioco. Sempre. È un affare, far crescere il Festival, far crescere il Casinò anche perché il Casinò ha un appeal che altre città non hanno perché in Italia i Casinò sono quattro però il Casinò che ha un certo fascino è quello di Sanremo, è inutile dirlo perché San Vensan è moderno, Lugano è moderno, Venezia è buono però all'Ido che è diverso. Si sbottoni, si sbottoni. Rispondere come... Allora, tutti i Casinò sono belli, ma questo è un sapore particolare, caro basso, è il Casinò di Sanremo, siamo in una località che ha un rinome, una fama mondiale, ce l'hanno anche gli altri ma sicuramente questo ha un appeal particolare e molto legato a questo tipo di manifestazioni, no? Il Festival di Sanremo sia per la RAI che per la Nazione per noi a Sanremo, noi sanremese è una manifestazione forse la più importante è così che torni al Casinò di Sanremo il Casinò è in primo piano, siamo contenti. È un fiorocchiello, un fiorocchiello. Ricordiamo che proprio Baglioni ha detto praticamente il Festival non dura più i cinque giorni canonici ma dura da dicembre a febbraio perché praticamente è l'apripista del Festival vero e proprio che sarà ai primi giorni di febbraio forse la data cambia perché questa novità forse si sposterà di una settimana però nasce a dicembre il 17 dicembre poi per cinque giorni poi continua perché la RAI rimane fissa qui rimane fissa qui quindi è un grosso unplanned Sì, sto pensando che forse mi organizzerò in modo tale di fare il Capodanno e qui, vivrò qui cosa posso dire? No, ma con tutta la squadra siamo contenti perciò ce la metteremo tutti in modo tale di con un lavoro di qualità di poter ricevere la RAI e poter fare il nostro lavoro insomma è anche un momento credo che ci permetterà anche di avere questa visibilità e attraverso questa di avere anche un impatto positivo sulla produttività dell'azienda Grazie Grazie a voi Grazie al pubblico Grazie Grazie a voi 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 Grazie a voi